Una presa di posizione netta perentoria quella di Assindustria Molise che con una lunga nota ha voluto dire la sua sul concetto di sviluppo nella nostra regione. L'associazione guidata da Mauro Natale in linea con il principio che il valore dell'impresa eleva di sviluppo dei territori in termini di pigli occupazione ha ribadito il ringraziamento a Granarolo per l'interesse di un'azienda extra regionale a voler investire in Molise. Confindustria sul punto ha detto di non capire la contrarietà espressa da più parti al progetto facendo l'esempio del Trentino Alto Adige dove ha sottolineato dati alla mano sul suo territorio a vocazione turistico ambientale sono ospitate in media 7,83 mucche per chilometro quadrato e a confronto ha continuato le 12.000 manze in Molise in aggiunta a quelle esistenti significherebbero per la nostra regione una media di 7,36 manze a chilometro quadrato. Allora perché dire no senza pensare a un'alternativa hanno rimarcato gli industriali quindi la proposta ad esempio di distribuire l'allevamento su un territorio più vasto creando moduli che possano interessare più aree molisane senza una concentrazione in un solo punto riattivando magari anche quelle strutture in disuso. Il problema per Assindustria non sono le manze nella Granarolo ma l'atteggiamento ostile nei confronti dell'industria in una regione dove ha evidenziato si è parlato sempre di sviluppo industriale quale volano di crescita. L'associazione ha poi posto l'accento anche sul nucleo industriale di Termoli e aziende come la Momentive di cui il sindaco della città adriatica non vuole l'allargamento importanti per lo sviluppo di un territorio oltre a pesca e turismo. Aziende del nucleo che ha spiegato hanno chiesto alla regione una certificazione ambientale sette anni fa e non ancora la ricevono e ai vertici della regione a sindaci e consiglieri comunali. Assindustria chiede a questo punto come pensano di promuovere lo sviluppo dell'impresa in Molise, come creare posti di lavoro andando oltre l'occupazione negli uffici della pubblica amministrazione, quali sono i segmenti o assi di sviluppo compatibili con la vocazione del Molise, come si pensa di fare contratti di sviluppo senza aziende in grado di partecipare ancora, come rendere attrattivo il territorio investitori se c'è un atteggiamento di chiusura. Il futuro secondo l'associazione industriale è non essere ripiegati su se stessi, aprirsi al nuovo, mettersi in discussione e rischiare qualcosa. Finiamola, ha concluso con la liturgia dei no.